Ciao a tutti, io sono Francesca, la responsabile di questo centro recupero fauna selvatica Lipu di Roma. Questi sono i miei due validissimi collaboratori. Se volete venire a trovarci, ma soprattutto se volete aiutarci a riabilitare la fauna selvatica in difficoltà, venite e vi faremo vedere come lavoriamo e quello che potete fare per contribuire. I nostri orari sono dalle 9.30 alle 17.30 per il pubblico ovviamente, poi se venite a lavorare gli orari saranno un po' diversi. Quindi contattateci anche sabato, domenica e tutti i festivi, noi siamo sempre qua. Grazie a tutti.